Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati qui su Breaking House. Io sono Simone e ogni settimana vi racconto le news e i rumors del mondo LEGO. Questa settimana vi parlo di LEGO Con, la convention annunciata da LEGO per fine mese. Dopo il primo teaser che aveva rilasciato LEGO con questo mattoncino luminoso che sembrava illuminato appunto con dei LED, il nostro primo pensiero era andato ai famosi kit LED emersi l'anno scorso durante il LEGO World in febbraio appunto che era un test, si è scoperto poi essere un test per vedere un po' la reazione dei clienti a questi kit LED dedicati a precisi set LEGO. In realtà poi tutt'altro è che questo tipo di set. Infatti poi LEGO successivamente ha svelato e ha tolto i vegli a questo mattoncino luminoso e ha dichiarato appunto essere il LEGO Con, la prima convention online di LEGO che arriverà il 26 giugno sabato alle ore 18. Sarà in inglese in questo caso ovviamente e sarà mondiale in quanto tutti potranno parteciparvi. Durante questa convention che avverrà all'interno della LEGO House saranno mostrate innovazioni, invenzioni, creazioni, LEGO si potranno condividere le proprie e verranno anche fatte rivelazioni a detta loro di novità nel mondo LEGO. Per chi fosse poco avverso appunto con l'inglese e volesse semplicemente rivedersela poi in italiano dovrà aspettare qualche settimana più tardi ovvero il 15 di luglio quando LEGO poi rilascerà la versione tradotta in italiano di quello che è accaduto appunto durante la convention del 26 giugno. Per cui nulla a che vedere appunto con questi kit luminosi LED per i set LEGO bensì una LEGO Convention che vi ricordo avverrà il 26 giugno alle ore 18 interamente online. Se ti è piaciuta questa news mi raccomando un bel pollice sotto mi piace e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato sulle news del mondo LEGO. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!